Salve, vorrei innanzitutto ringraziare l'associazione Ama fuori dal buio per avermi invitato a partecipare a questa conferenza sulle malattie rare, un tema che considero assolutamente importante. L'articolo 35 della Carta Europea dei diritti fondamentali dell'Unione Europea recita che ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche. Tuttavia, troppe volte chi soffre di malattie rare deve purtroppo confrontarsi con ingiustizie e disuguaglianze di trattamento. Penso ad esempio alla disparità nella tempestività della diagnosi e alle difficoltà nell'accesso alle terapie e agli stessi farmaci. L'Europa ha fatto progressi nel campo delle malattie rare. Attualmente sono 16 gli Stati membri che dispongono di piani per esse, ma rispetto ai solo 4 del 2008. Ma ritengo che molto resta ancora da fare per garantire davvero che le persone affette da malattie rare possono ricevere la diagnosi e i trattamenti necessari nel più breve tempo possibile. Nel mio ruolo di eurodeputato mi sono occupato da vicino del problema delle malattie rare, presentando diverse interrogazioni alla Commissione europea, tra cui recentemente quella sulla fibrosi pulmonare idiopatica, con la quale ho chiesto l'introduzione di standard di cura condivisi a livello europeo e l'istituzione di un fondo europeo di solidarietà per consentire un accesso equo ai pazienti degli Stati membri e cure autorizzate dall'Agenzia europea del farmaco, ma non invece nel mercato a causa dei ritardi nell'approvazione da parte delle agenzie nazionali. Le persone colpite da malattie rare devono essere sostenute e la difficoltà di conoscenza rispetto ad alcune malattie devono essere superate con una maggiore interazione e per questo motivo che la messa in comune di conoscenze e competenze a livello europeo e la collaborazione tra gli Stati membri vanno ulteriormente sviluppate. Nel complimentarmi per le organizzazioni di questa lodevole iniziativa colgo l'occasione per salutare Ama fuori dal buio e tutti i partecipanti alla conferenza. Rinnovo il mio supporto alla causa e faccio un caro saluto a tutti.